Tra le diverse operazioni segnalate oggi dalla piattaforma EasyTrade Port con l'algoritmo Watchlist e per la strategia Put Credit Spread, figura questo spread verticale di put su Ubaba. Personalmente non opero su aziende cinesi da un po' di tempo per una serie di vicissitudini che mi sono capitate e delle quali ho parlato poi più volte nelle pagine del sito EasyTrade Italia. Però questa operazione su Alibaba è interessante da un punto di vista diciamo didattico per valutare la convenienza del Credit Put Spread rispetto ad altre opportunità operative. Nello specifico questa proposta di Short Put 135 scadenza ottobre coperta da Long Put 130 ha un credito di 0,55 atteso ovviamente e una serie di probabilità che adesso poi andiamo a vedere nel dettaglio nell'Option Matrix. Proviamo a impostare l'operazione, la scadenza è abbiamo detto il 15 ottobre e consta di una Short Put 135 coperta da Long Put 130. Analizziamola così com'è e proviamo a passarla al nostro consueto calcolatore di convenienza statistica. Allora andiamo a impostare l'operazione nel calcolatore. Il ticker è Babba, la data del trade è il 30 agosto 2021, la scadenza è il 15 ottobre, lo strike short è 135, il long 130, l'expected credit 0,55. Andiamo a prendere le probabilità a favore che vediamo sono tutte generalmente alte, non ci sono earnings in arrivo per cui non c'è la earning probability. Comunque abbiamo normale 88, storica di breve 92, storica di lungo 96, stress test di breve di lungo 89, 83, probabilità basata su volatilità implicite storica 97%, RSI stocastico e percentage point oscillator rispettivamente 199,94, quindi tutte probabilità decisamente elevate. Se andiamo a impostare queste probabilità vediamo che abbiamo un'aspettativa ponderata di ritorno del 4,6% che annualizzato è un 36,7% tenendo conto del numero di giorni che intercorrono tra la data in cui si cercherà di fare l'operazione e la data di scadenza. Bene, quindi l'operazione è a tutti gli effetti perseguibile, è un'operazione con un'aspettativa statistica positiva, quindi un'operazione che si potrebbe effettivamente prendere in considerazione di fare. Andiamo a vedere se ci può essere margine di manovra per poter sperare di prendere qualcosa di più. In realtà 3,65 e 3,75 il bidask alla chiusura di venerdì sera per la put 135, 3,3 e 10 quello per la put 30, può darsi che con l'ordine combo di una piattaforma come la TVS di Interactive Broker si possa prendere un 5 centesimi in più. Magari adesso vi provo a impostare qui un 3,70, vediamo se cambia qualcosa a livello di probabilità. Direi che non è cambiato nulla, faccio una prova rapida per vedere come controprova. No, infatti le probabilità sono rimaste tutte uguali, quindi l'unica cosa che cambia è il credito che da 0,55 passa probabilmente 0,6, la redditività attesa da un 4,6 passa a un 5,8 e l'annualizzata da un 36,7 a un 46,1. Quindi sicuramente vale la pena tentare di spuntare questo piccolo credito in più se ci sono le condizioni per farlo. Tutto dipende ovviamente anche da come aprirà il titolo oggi perché se il titolo apre a rialzo magari decade proprio completamente la fattibilità dell'operazione. Quindi bisogna aspettare comunque l'apertura del mercato per poter fare qualunque altra valutazione. Però possiamo andare a fare anche un ragionamento diverso. Allora andiamo a prendere l'analisi completa del titolo. Vediamo un po'. Innanzitutto diamo una rapidissima occhiata ai parametri di bilancio che mi sembrano abbastanza in ordine, non ci sono segnali di tra virgolette di allarme, l'indebitamento è molto contenuto, siamo al 12% come long term debt capital ratio e i debiti totali sul patrimonio netto sono il 15%, quindi sono valori assolutamente gestibili. Il PE è abbastanza buono, il price to book 3.04 è abbastanza buono. Insomma direi che non ci sono assolutamente campanelli d'allarme a livello di parametri di stampo fondamentali. Il titolo è stato molto negativo in tempi recenti, andiamo a vedere rapidamente il grafico, per chi magari non lo stava seguendo da un po', viene da un massimo superiore ai 300 dollari di ottobre 2020 e ad oggi veleggia intorno, andiamo a stringere la vista, intorno ai 160, 158-160 e quindi insomma ha perso circa il 50% dai massimi di pochi mesi fa. Io personalmente credo che sia destinato a scendere ancora, perché comunque è in atto una specie di ritorsione contro le aziende cinesi quotate sui mercati americani per le vicissitudini che sono successe recentemente su alcuni comparti, in particolare sul comparto educational, sul quale una mattina il governo cinese si è svegliato decidendo che le aziende dovessero diventare delle onlus e quindi si sta verificando, credo, e questa è un po' la lettura che ne sto facendo io, un po' una ritorsione a livello di sell off su tutte le aziende cinesi quotate sui mercati americani e temo che la situazione possa perdurare. Però comunque ci possono essere delle opportunità che si potrebbero comunque cogliere. Adesso provo a mostrarvene una, perché se andiamo a vedere il cono previsionale di traiettoria attesa al 15 ottobre per il titolo Baba, andiamo a impostare qua 35 giorni, lasciamo la vista di tutte e cinque le curve di probabilità storica, abbiamo una lettura di probabilità al 90% che non va mai sotto, a prescindere dal modello utilizzato, i 135. Proviamo però a portare al 99% questa lettura probabilistica, cioè vediamo proprio dove ci può portare la discesa, se le cose vanno male, al 99% di probabilità. E qui vediamo che siamo intorno al 120, la lettura più bassa, ecco la probabilità un anno, che ci porta a un potenziale 118,22. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.